Linee naturali e tessuti morbidissimi, fantasi romantiche in tulle e strass e look British per un bambino che si veste seguendo lo stile di mamma e papà. Sono queste le tendenze in scena Pitti Bimbo, il grande salone della moda baby che si è aperto oggi alla fortezza da basso di Firenze. In passerella 510 collezioni da tutto il mondo e sono attesi oltre 8000 buyers per un settore sempre più in ripresa che ha chiuso il 2011 con un fatturato in aumento del 4% e un boom dell'export. E non poteva certo mancare un evento dedicato alla solidarietà, mentre per Miss Blue Marine hanno sfilato modelli d'eccezione come le figlie di Benedetta Parodi, Alberto Gilardino e Claudia Gerini, Simonetta ha adottato e rivestito 500 pigotte dell'Unicef. Ogni bambola è una vita salvata per un bambino dell'Africa, grazie al programma che prevede assistenza medica e cibo. Testimonial dell'iniziativa a favore dei piccoli meno fortunati, l'attore Beppe Fiorello. Oggi sono ospite di Simonetta che si occupa da 50 anni dei bambini fortunati, dei bambini che hanno avuto una buona vita e con questi bambini Simonetta ha deciso da molto tempo insieme a Unicef di dedicarsi ai bambini che non hanno avuto una buona vita. E quindi oggi con queste meravigliose bamboline, mi conferma Unicef, si dà la possibilità a questi bambini meno fortunati di poter avere una buona vita in tutti i sensi, dal punto di vista dell'istruzione, dal punto di vista della salute. E siamo qui per questo, qui parliamo soprattutto dell'Africa ad esempio, dove sappiamo bene tutti, a volte facciamo finta di non saperlo o facciamo finta di avere altri impegni per la testa che da quelle parti ancora si muore di fame. E quindi siamo qui perché dal semplice gioco di bambini un po' più fortunati di quelli che Unicef ha nel cuore, da questi bambini si trae un ricavato e poi lo si metterà a disposizione dell'Africa, dei bambini che in questo momento, e non solo dell'Africa, di quei bambini che hanno bisogno di mangiare, di istruirsi, di vivere. Tante le meson toscane d'alta moda presenti in fiera con le loro collezioni junior, come Patrizia Pepe, che rivisita l'eleganza anni 60 in tinte calde, sui colori autunnali e presenta capi pratici da indossare per un bambino libero di giocare e muoversi, ma anche Roberto Cavalli con la sua Angel & Devil Collection, pensata per gli adulti di domani, mentre Ermanno Scervino punta tutto sul romanticismo e ripropone un classico come il Montgomery in colori pastello. Tra le novità, gli accessori per l'infanzia, nati dalla collaborazione di Fendi e Inglesina, il debutto dell'intimo e calzetteria baby di La Perla, e il set Pappa in Porcellana di Richard Ginori, la storica azienda fiorentina, che insieme al brand Mimisol ha disegnato la linea Ninna Nanna. Innovativa anche la collezione Bubino fatto con amore in Italia, nata dalla creatività di Benedetta Patrassi, che si è aggiudicata alla seconda edizione di Who is on next, bimbo, il concorso dedicato ai nuovi talenti, con le sue creazioni sartoriali, nate dalla passione per il lavoro a maglia. La favola che ho scritto è la favola sulla mia vita, che è stata illustrata da una ragazza di Bordenone molto brava e racconta in modo fantasioso la mia storia, che parte da una nonna, una bisnonna, che mi ha insegnato a lavorare la maglia. E quindi da lì la favola di questa bambina, che per magia riesce a creare danzando tutta la collezione. Parte dal filo di lana, dalla maglieria, per arrivare poi ad una collezione completa con abitini, giacche, camicette per un total look.